è venuto a mancare dall'affetto dei suoi cari e di tanti amici colleghi della scuola e amministratori del cilento l'ingegner mauro inverso originario di piano vetrale ma residente nella città di agropoli mauro inverso proprio ad agropoli nella prima consigliatura di franco alfieri ricoprì la carica di vice sindaco è stato sindaco del comune di orria cilento per cinque anni e presidente del gal cilento regenerazio insegnava presso il liceo scientifico alfonso gatto di agropoli in tanti lo ricordano come una persona cordiale gentile buona equilibrata e garbata purtroppo mauro stava combattendo la sua battaglia contro un brutto male che lo ha strappato alla vita era ricoverato da tempo presso l'ospedale san luca di vallo della lucania e ieri è deceduto presso la sua abitazione in tanti avevano sperato in una sua ripresa ma purtroppo così non è stato tanti messaggi di cordoglio alla famiglia dagli amministratori del territorio del parco e dal mondo della scuola la vita ci porta ad affrontare momenti tristi che non vorremmo mai vivere oggi ci ha lasciato mauro inverso un caro amico prima che un uomo delle istituzioni con lui abbiamo affrontato tante battaglie politiche come dimenticare la sua capacità di mediazione il coraggio e la determinazione con cui ha combattuto anche contro la malattia è il messaggio del sindaco della città di agropoli adamo coppola una notizia che non avrei mai voluto avere caro mauro ci eravamo sentiti due giorni fa per whatsapp dato che non riuscivi a parlare scrive gabriele de marco sindaco di salento avevamo parlato di quello che avremmo dovuto fare io in qualità di sindaco e tu come presidente del gal eri ancora così pieno di voglia di vivere e speranzoso nel futuro che mi avevi riscaldato il cuore nonostante le risultanze cliniche della tua malattia che io richiedevo sempre con ansia ai nostri comuni amici e che non davano eccessive speranze ho sperato fino a pochi momenti fa in un miracolo eri così religioso e devoto di padre pio che tu meritavi per la persona buona e per bene che eri il territorio cilentano perde un grande politico ed io un grande sincero amico che tu possa stare alla gloria degli angeli in paradiso non sarai mai dimenticato io non ti dimenticherò riposa in pace grande e sincero amico mio la redazione di cilento channel si stringe al dolore che ha colpito i familiari per la perdita del caro Mauro Inverso